buongiorno e benvenuti da scandal questo sarà uno dei tutorial che molto probabilmente vi daranno accesso a questo canale oppure sarà uno dei tanti video che voi avrete visto ma che comunque non vi dà se siete abbastanza esperti seguite questo canale più di tanto a livello di informazioni proprio perché facciamo insieme quello che è il tutorial basico del dei carri che poi anche quello che vi regala 100 golden eagle è un pochino di leone e quindi andiamo magari a vedere immediatamente i comandi cioè cercando di scendere un attimino più del dettaglio inverti y axis del del tank è la facoltà di muovere il mouse e abbassare la canna o verso l'alto o verso il basso quindi adesso gli assi invertiti io ce li ho su no quindi se io porto il mouse in alto la canna si sposta in alto e viceversa mentre magari ci sono alcuni di voi che giocano meglio ad assi y invertiti quindi qui lo settate sì io attualmente ce lo sono le frecce per muoversi sono davvero sempre le stesse vs a e d vs sono quelle per l'acceleratore e il freno del carro armato e lo sterzo in realtà con a e d il fatto che il carro armato non sia come la vostra automobile la vostra motocicletta il vostro motorino quello che avete anche la vostra bicicletta e in realtà si muove in maniera differente lo andremo a vedere immediatamente perché il carro armato in realtà si muove ruota su se stesso attraverso il decelerare o addirittura bloccare uno dei due cingoli quindi molto spesso vi farà delle curve un po strette diciamo a slittare ecco questo potrebbe essere utilizzato sia in maniera positiva per delle manovre molto veloci ma potrebbe essere anche nel contempo un fattore negativo perché magari voi ruotate il carro quando in realtà non avete proprio necessità ed esponete un fianco o addirittura la parte posteriore una delle cose più importanti che ho visto da inserire all'interno del del menu comandi e la marcia che ha armato sulla marcia che ha armato giù questo che io ho sentito con q e con e molto probabilmente adesso non so se nella configurazione guidata dei controlli sia la stessa e medesima cosa ma comunque questa è riconosciuta è la stessa cosa della cruise control quindi praticamente inserendo una marcia superiore voi salvate il vostro dito medio da tenerlo premuto con il w per tutto il tempo che in mappe come le quattro che ci sono adesso che girano di cui kursk defense è quella che più lunga tra virgolette perlomeno non dovete stare a premere sette minuti il vostro tasto ma settate il cruise control per il resto diciamo è tutto sommato abbastanza semplice perché poi dopo il resto ve lo potete settare se ne avete necessità nella maggior parte dei casi sia in arcade che in realistica che è in simulator che sono tre modalità affrontabili coi carri non avrete necessità però comunque sono settabili a piacimento soprattutto se avete voglia di approfondire un po più sui comandi il controllo del carro armato chiaramente come dicevo prima ci sono tre modalità quindi noi adesso riprendiamo il nostro basic tutorial ci sono tre modalità e queste tre modalità sono diciamo l'arcade che la più immediata avete proprio questo crocetta che vi dice dove il colpo andrà a finire e vi dice anche in base alla colorazione e adesso lo vedremo subito perché il tutorial lo include se forerete l'armatura se non la forerete oppure se farete determinati tipi di danni mentre poi realistic e simulator andranno increscendo come difficoltà perché nell'una non avrete sicuramente la crocetta ma avrete la possibilità di calcolarvi l'alza in automatico stando al di fuori del carro e quindi diciamo avendo anche comunque le icone di spot dei nemici quindi essendo un attimino più facilità della simulator non vi darà nessun tipo di icona sui nemici quindi saranno da spottare a occhio è una modalità molto più bella molto più coinvolgente molto più realistica e simulativa e quella ve la consiglio vivamente quindi adesso muoviamo il nostro carro adesso vi faccio vedere due tre cose di base che poi sono quelle che troverete poi sul tutorial quindi vedete che bloccando il cingolo di destra con la pressione del tasto di noi riusciamo a fare anche delle pirouette su noi stessi soprattutto su questi ciotolati su questo tipo di terreno adesso noi ci muoviamo verso il campo di tiro e poi vediamo insieme come si fa a tirare con questo questo carro ormai tutorial è esplicativo l'hanno fatto forse ci ha messo anche un bel po di tempo per farlo e quindi secondo me vale la pena di guadagnarsi queste 100 golden eagle facendo questo tutorial insieme a gaijin che ci ha permesso di farlo qui adesso ci mettiamo nel nostro punto di poligono ok obiettivo missione completato e dice muovi il cursore sul tank indicato perfetto attendi fino a che la torretta si posizioni diciamo e allinei col cursore quindi adesso abbiamo la possibilità di entrare all'interno della visuale del gunner ce l'abbiamo sempre con la V premendo V e poi dopo riusciamo con la Z o col tasto destro a riuscire ad ingrandire quello che sono i dettagli del nostro bersaglio quando il nostro mirino è al centro dello schermo noi saremo pronti a fare fuoco e poi dipende dallo spessore dell'armatura del vostro bersaglio che la colorazione all'interno della croce rossa se è attualmente impossibile da penetrare gialla se c'è una possibilità di penetrarla e verde se c'è invece la certezza di penetrarla quindi adesso ci informa che il miglior modo di distruggere un carro armato è quello di distruggere, uccidere il suo equipaggio diciamo eliminare il suo equipaggio che chiaramente è composto qua di 4 o 5 membri adesso non lo so comunque adesso spariamo nella botola diciamo nella parte dove c'è il driver quindi anche il driver muore qui c'è un gunner e loader quindi adesso cerchiamo di fare fuori loro il loader è andato al creatore anche probabilmente il commander che fa lo stesso tipo di fine quindi attualmente abbiamo eliminato un carro armato esclusivamente facendo fuori i membri del suo equipaggio dice un'altra via per eliminare efficacemente un altro carro armato è quella di poter far fuori la parte posteriore quindi qua abbiamo un carro armato voltato della parte posteriore e abbiamo la possibilità di colpire il motore il motore lo immobilizzerà e quindi una volta che abbiamo fatto fuori vedete a destra danni engine e radietro praticamente il carro armato viene eliminato quindi adesso proseguiamo il tutorial spero di avervi tradotto quasi nella maggior parte dei casi tutto quello che c'era scritto però comunque sostanzialmente dai anche se uno non sa l'inglese comunque giallo rosso e verde è abbastanza intuitivo da riuscire a fare adesso ci posizioniamo nella seconda piazzola dove di tiro dove viene indicato un carro armato che però si volta di muso contro di noi quindi lo spessore dell'armatura è sicuramente più importante che nelle parti laterali e posteriori quindi quella lì è la sua miglior difesa cioè è anche la vostra chiaramente quindi se noi adesso andiamo con la V lui dice ci sono due punti deboli di questa parte frontale una è la feritoia dove c'è il gunner e il driver che quindi se voi insistete sulla feritoia quindi c'è la possibilità infatti vida giallo di insistere su quel punto debole potrete fare fuori parte dell'equipaggio oppure quindi di eliminare tutti quindi qua siamo all'ultima possibilità di come fare ad eliminare un carro armato lui dice qui il vostro carro armato nemico è posizionato in una situazione in cui è impenetrabile e quindi noi dobbiamo caricare un'altra tipologia di proiettili quei proiettili che però non sono in grado di penetrare l'armatura sono in grado di fare però dei grossi danni infatti lui ti dice adesso devi caricare un composite shell e danneggiare con questo tipo di munizionamento il carro armato avversario adesso lo facciamo cerchiamo di mirare dove c'è diciamo la riservetta delle delle munizioni infatti colpita abbiamo la possibilità di eliminare anche i tank che non sono perforabili con le ap diciamo le armor penetration shell quindi adesso abbiamo vinto chiaramente le nostre 100 golden eagle e i nostri 15.000 lions e niente questo è il tutorial che vi avvia a quello che è poi sostanzialmente tutto il processo dei tank diciamo delle battaglie con i carri armati all'interno di War Thunder che io penso sia una delle cose più avvincenti soprattutto se voi provenite da altri videogame che sono molto simili vi ricordo che comunque ci sono tre modalità e di queste tre modalità ci sono solo due tech 3 attualmente che possono essere utilizzati possono essere giocati quello tedesco e quello russo quello tedesco e quello russo saranno i primi i giapponesi si hanno molti dubbi se integrarli o no ma comunque sicuramente vedremo quello inglese e quello americano non a breve vi dico però secondo me c'è possibilità che lo sviluppino a medio lungo termine quindi anche per questa volta è tutto io spero di esservi stato utile con questo tutorial anche se sinceramente la maggior parte di voi l'avrà fatto e finito e compreso alla perfezione quindi guardatevi sempre ore 6 non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao